La Carta dei Servizi La Carta dei Servizi è uno strumento destinato a diventare una vera e propria chiave d'accesso digitale per entrare in contatto con la pubblica amministrazione. Con oggi parte la nuova campagna per la promozione, la spiegazione e la diffusione della nuova Carta dei Servizi. La nuova Carta dei Servizi è la chiave attraverso la quale i cittadini possono accedere alla pubblica amministrazione. Per fare cosa? Per avere servizi, borse di studio, certificati, richiesta di informazione, pagamento di contributi, compilazione dei moduli come ad esempio i complicati moduli per l'Ivo. Oggi, da oggi, parte la nuova campagna per spiegare come funziona e presentare la nuova immagine della Carta dei Servizi. Sono già oltre 30 le possibilità disponibili online con la Carta dei Servizi, uno dei più importanti strumenti per incentivare lo sviluppo dell'amministrazione digitale e dell'e-government. La seconda fase della Carta dei Servizi parte da una campagna di comunicazione che mette al centro un nome e un'immagine più semplice e riconoscibile. Si concluderà durante la fiera d'autunno con uno stand dedicato. Il rilancio della Carta dei Servizi è sostenuto, oltre che dalla provincia di Bolzano, anche da Azienda Sanitaria, Consorzio dei Comuni, Fondo Europeo di Sviluppo Regionale in qualità di finanziatore. La nuova Carta dei Servizi, però, non è solo immagine, è anche sostanza. Il microchip contenuto nella carta consente di accedere in maniera sicura e protetta ad una serie di servizi pubblici comodamente dal proprio computer, evitando code agli sportelli. Tutto questo significa ridurre la burocrazia, portare notevoli vantaggi sia al cittadino che alla pubblica amministrazione. Per ulteriori informazioni sulla Carta dei Servizi si può visitare il sito web all'indirizzo www.provincia.bz.it slash carta servizi oppure contattare il call center gratuito al numero 800 816 836.